Amiche e amici di Grottaglie, bentrovati al nostro nuovo episodio del podcast in cui raccontiamo storie, leggende, tradizioni e fatti di cronaca legati al territorio di Grottaglie. In questo appuntamento affrontiamo un argomento un po' particolare che esce fuori dalla normale cronologia degli eventi che abbiamo raccontato in altri episodi e affronta una questione che potrebbe sembrare ad alcuni secondari ma che in realtà ha la sua importanza effettivamente all'interno della storia e dello sviluppo sociale ed economico di Grottaglie, ovvero quello che è il confronto scontro con la vicina Martina Franca. Grottaglie e Martina Franca da secoli per certi aspetti vivono questo rapporto, questa sorta di confronto a distanza che a volte è sposciato in conflitto aperto, altre volte si è limitato diciamo così a delle malignità un po' caustiche, altre volte ancora in confronti fatti proprio rispetto al status sociale, culturale ed economico delle varie popolazioni. Confronti, occorre dire, non sempre obiettivi e privi di secondi fini. Ovviamente non è questo il luogo per sviscerare una questione che radici così profonde, ma può però essere interessante analizzare alcuni dei motivi che stanno alla base di questa acrimonia. Ecco, in un episodio precedente del nostro podcast dedicato alla storia di Grottaglie abbiamo accennato alla presenza di una vera e propria foresta, composta da alberi di arto fusto, querce e non solo, oltre che di vegetazione selvatica, che è in gran parte ancora esistente, ed è situata in una zona che è al confine tra Grottaglie, Martina Franca ed Ostuni, denominata Mutata. La maggior parte dei grottagliesi potrà a questo punto raccontare con orgoglio il motivo del nome di questa zona e il perché il santuario che lì esiste appartenga alla diocesi grottagliese. Prima però di raccontare anche noi, sia pure a grandi linee, la storia a beneficio dei pochi che non la conoscono, occorre ricordare a onor di cronaca l'ipotesi che vuole il toponimo Mutata originato dalla correzione di Matuta, il nome di una divinità paleoromana che proteggeva quelle che oggi chiameremmo le madri surrogate, ovvero quelle donne, a volte parenti delle madri naturali, altre volte senza nessun rapporto con queste, che si prendeva da cura dei neonati quando appunto la madre naturale non poteva farlo. A suggerire tale ipotesi non solo la similitudine, la quasi omofonia dei due termini, ma anche la statuetta in pietra di epoca romanica della Vergine con Bambino, che un tempo era ospitata nel santuario appunto della Madonna di Mutata ed è custodita nella chiesa amatrice di Grottaglie, una statuetta che rievocherebbe gli ex voto un tempo offerti appunto a tale divinità paleoromana, in un luogo quindi sacro sin da prima dell'avvento del cristianesimo ed evidentemente legato alla valenza simbolica della foresta, peraltro richiamata anche nella denominazione di Santa Maria in Silvis, con cui era conosciuto il santuario stesso. Altri ipotesi più prosaiche, quindi forse per questo più probabili, suggeriscono invece che il termine mutata sia di riferirsi all'atto della mutazione, mutazione in latino, ovvero al cambio dei cavalli, dei messi, dei messaggeri e dei corrieri dell'epoca che veniva effettuato nella masseria adiacente al santuario dai viaggiatori appunto che si muovevano lungo la vicina via Appia. Ora, tornando alla leggenda, si racconta che nella chiesetta, peraltro già esistente almeno fin dal X secolo, fosse presente un affresco raffigurante la Madonna, un affresco che era orientato a sud e quindi verso Martina Franca, caratteristica questa che portava i fedeli martinesi a rivendicare i loro diritti su questo luogo di culto. Pare però, forse anche per la distanza dalla città di Martina, che la dedizione di questi fedeli non fosse propriamente esemplare, che insomma tutto il santuario versasse in condizioni fatiscenti. E così nel 1359 avvenne un fatto straordinario. L'affresco guardava a nord, verso Grottaglie, e per effetto di tale eccezionale cambio di prospettiva venne quindi denominato Madonna di Mutata. La Madonna aveva mutato il suo sguardo e il suo punto di vista. Ora, evidentemente ciascuno è libero di credere che il fatto sia davvero avvenuto, e se è davvero avvenuto, quanto ci sia di divino e quanto invece non ci sia di umano in questa azione. Fatto sta che tutto ciò rese ovviamente felice ed orgogliosi i Grottagliesi e molto meno contenti i fedeli di Martina Franca. Ora, se il dissidio tra il diocesi di Grottaglie e quello di Martina Franca si fosse deciso solo ed esclusivamente per un atto soprannaturale, nessuno dovrebbe dolersene. Dura l'ex, sed l'ex, così è stato deciso in alto e quindi, come direbbe il padre Dante, vuolsi così colà, ove si vuole, ciò che si può, e più non di mandare. Però, come in tutte le cose umane, i motivi sono molti di più e tutti molto più banalmente pratici rispetto a una gerarchia devozionale. A raccontarli sono ancora una volta Rosario Quarante e Silvano Trevisani nel loro libro Grottaglie, Vicende, Arte e Attività della Città della Ceramica, che ne elencano diversi e premettono proprio che oggi con la nostra mentalità tali cose difficilmente possiamo comprenderle, ma da un punto di vista storico nessuno ci autorizza a sottovalutare o a banalizzare un fenomeno che, sia pur discutibile, rappresenta una serie di fatti realmente vissuti e con passione di battuti da tanti personaggi in una certa levatura intellettuale. Il motivo dell'accanimento, insomma, era il giuridico riconoscimento di effettiva preminenza ed anche l'accidentale orgoglio cittadino di sapere la propria chiesa più antica e importante di quella del vicino. Le occasioni in cui i due capitoli di Grottaglie e di Martina Franca venivano in contatto erano sufficienti per far divampare il problema. Sinodi diocesani e provinciali, feste patronali a Taranto, obbedienza al presule, visite pastorali, eccetera. Il capitolo grottagliese aveva avuto sempre la precedenza in tali circostanze. Nel 1568, racconto ad appunto Rosario Quarante Silvano Trivisani, questa prassi venne attentata in parte sovvertita. Infatti, nel sidono provinciale di quell'anno, presieduto dall'arcivescovo cardinal Marcantonio Colonna, essendo sorta una controversia tra i preti delle due chiese, il cardinale stesso dichiarò che essi procedessero insieme a doppia fila, ma che i martinesi si tenessero sulla parte destra. Da tale decisione, questi ultimi avevano dedotto un tacito riconoscimento della loro superiorità. Si iniziò così un processo che durò a lungo. La conclusione definitiva si ebbe addirittura nel 1843, quasi 80 anni dopo, con la proclamazione della preminenza grottagliese. Anzi, altro che 80 anni dopo, si è iniziata nel 1568, insomma, parliamo quasi oltre tre secoli. Insomma, eppure nella decisione della congregazione dei vescovi, notificata dal protonotario apostolico Camillo borghese in data 24 maggio 1596 e confermata con un breve pontificio di Clemente VIII del 15 luglio dello stesso anno, si dava atto nel modo più ampio possibile della precedenza di grottaglie, ratificando una prassi e consuetudine radicate fortemente nel tempo. Le motivazioni sono riassunte dal caraglio secondo quest'ordine. Per l'antichità della città, Martina infatti fu edificata dopo Grottaglie, per l'antichità del suo collegio, infatti la chiesa grottagliese è sempre stata chiamata nei vari documenti collegiata, mentre quella martinese è una chiesa parrocchiale, perché a Grottaglie sottostavano i due casali di Civitella e Montegliasi, e inoltre per l'antichità dell'erezione dei canonici rispetto a Martina. Non è questo l'unico vantaggio vantato dalla chiesa grottagliese, ve ne furono altri che raccontano ancora appunto Rosario Quaranta e Silvano Trivisano. Sul finire del secolo XVI la chiesa grottagliese ottiene l'esenzione dalle sedicesime papali, grazie ad un decreto del cardinale Enrico Gaetano del titolo di Santa Prudenziana, datato in Roma in Camera Apostolica il 15 febbraio 1595. Inoltre, a titolo di curiosità, i due autori riferiscono di una lite tra il capitolo e Fabio e Falegnami che operavano nella piazza antistante alla collegiata, disturbando gli uffici divini con rumore della loro attività. I preti scrissero nella mentela, tramite il capitano e commissario generale, alla regina Bonasforza di Polonia, feudataria, ottenendo in data 3 novembre 1539 un degredo di sigismonde della suddetta Bonasforza, in forza della quale i poveri Fabio e Falegnami furono costretti ad astenersi dal lavoro durante le ore canoniche, con la minaccia, in caso di inadempienza, di cessare totalmente l'attività e di cedere ad altri artigiani meno rumorosi le loro botteghe. Insomma, come vediamo che nelle faccende divine l'umano ci mette lo zampino, e ancora lo vedremo nelle prossime puntate del nostro podcast, a cui io vi do appuntamento ringraziandovi intanto per la vostra attenzione. Alla prossima!